Buonasera, benvenuti alla presentazione di questo volume di Limes, una strategia per l'Italia, un volume particolare perché noi siamo italiani, facciamo una rivista italiana e quindi questa volta abbiamo pensato di non limitarci all'analisi ma anche di proporre in modo provocatorio alcuni spunti strategici. La bellezza della storia è che non procede per linea retta, ogni tanto ci sono delle curve, delle cunette, degli incroci perché se procedessimo per linea retta probabilmente tra non molto tempo questo paese non ci sarebbe più. Gli indicatori demografici, economici, culturali non depongono a favore della unità nazionale e poi su questo in particolare sulla questione delle cosiddette autonomie regionali dirà qualcosa di più specifico Peppe Provenzano di Svimez che ha anche scritto su questo tema nel volume appunto alle mie spalle. Io invece proverò a spiegare questa provocazione, eccoci qua, una strategia per l'Italia. Allora innanzitutto come siamo, dove siamo? Noi siamo, come si vede, innanzitutto nel Mediterraneo e quindi la prima domanda che dobbiamo farci è che cosa significa essere nel Mediterraneo oggi. Essere nel Mediterraneo oggi significa essere un asset effettivo attuale per gli Stati Uniti d'America in quanto piattaforma logistica insostituibile nello spazio euro-mediterraneo e questo non è un dono nostro ma è un dono di natura che però utilizziamo poco ed essere mediterranei vuol dire essere una potenziale risorsa anche per il principale alleato degli Stati Uniti cioè la Cina. L'Italia quindi si trova in qualche modo in una tenaglia tra una potenza effettiva che ha un controllo superiore sul sistema italiano ed europeo, cioè gli Stati Uniti d'America attraverso la Nato e in qualche misura anche attraverso le strutture europee che sono subordinate a questo assetto strategico e dall'altra parte le vie della seta, cioè il progetto cinese di connessione tra Cina, Asia ed Europa e anche Africa, apre evidentemente una prospettiva di influenza cinese in Italia che come sappiamo è affare di cronaca. domani arriva il presidente Xi Jinping, la prima volta che l'imperatore di Cina ci pregia di questo incontro fra l'altro caso molto raro, un capo di Stato viene a Roma non per vedere il Papa ma per vedere il presidente della Repubblica e il capo del governo italiano non perché Xi Jinping magari non voglia o non possa, se ne può discutere ma perché non avendo relazioni diplomatiche, almeno per ora, Santa Sede e Cina è un po' complicato organizzare un incontro formale quindi siamo sotto questo profilo, il profilo mediterraneo un paese piuttosto interessante e rilevante basti considerare la presenza di basi militari, bombe atomiche, asset d'intelligence e quant'altro americani dalla fine della seconda guerra mondiale ininterrottamente fino a oggi e appunto basti anche considerare la capacità cinese di sviluppare questi percorsi delle vie della seta che hanno sicuramente un'attrattiva economica, un fascino economico per un paese come il nostro che è sempre affascinato appunto dall'economicismo cioè sostanzialmente dai cinesi vogliamo i soldi così come dagli americani abbiamo avuto i soldati e tutto quello che ne consegue un paese che ragioni strategicamente non può farsi determinare semplicemente dall'economia certo che in questo momento per le tendenze che conosciamo stiamo entrando in recessione abbiamo sempre meno forza lavoro una popolazione sempre più anziana c'è un disperato bisogno la produttività è ferma se non in crisi abbiamo disperato bisogno di investimenti esteri ma questo secondo me non basta a spiegare qualcosa che va molto al di là dell'economia perché il progetto cinese non è affatto economico ma è geopolitico con una componente economico commerciale certamente di qui l'idea attuale fra Italia e Cina vedremo che cosa uscirà da questo incontro fra Sicimpina e i nostri governanti di considerare Genova e Trieste diciamo le ascelle dell'alto mediterraneo rispettivamente Tirrenica e Adriatica come due approdi privilegiati in questi mesi ci sono stati dei negoziati riservati tra il nostro governo e quello cinese ci sono state anche delle rimostranze in alcuni casi esplicite in altre riservate americane per il fatto che l'Italia si era troppo esposta a loro giudizio nel rapporto con la Cina sappiamo che c'è un memorandum che dovrebbe essere firmato dai leader dei due paesi durante questa visita, memorandum che apparentemente è vuoto ma che naturalmente attende di essere riempito di contenuti e che ha comunque anche nella fraseologia un sapore ideologico che ne denuncia l'origine non esattamente italiana e certamente non affine a quello che è l'approccio americano dal punto di vista geopolitico vorrei soffermarmi in particolare sul caso di Trieste perché Genova oggi è sicuramente il principale porto italiano sappiamo però quali sono i problemi di Genova e sappiamo anche che l'idea fondamentale del porto di Genova è quella di collegarlo attraverso delle infrastrutture ferroviarie via Svizzera con i porti del nord, in particolare Rotterdam Trieste è una città formalmente italiana ma che per gli aspetti decisivi italiana non è ad esempio dal punto di vista atlantico basti vedere anche il memorandum del 54 con cui Trieste tornava all'Italia è una sorta di protettorato anglo-americano togli pure l'angolo e lascia l'americano gli americani lo considerano il porto di Trieste la città di Trieste non a caso a suo tempo polo meridionale della cortina di ferro un asset strategico fondamentale in chiave anti-russa e naturalmente adesso che arrivano i cinesi anche anti-cinese quindi strategicamente siamo in un altro pianeta dal punto di vista infrastrutturale se vogliamo ancora di più Trieste è praticamente una città abbandonata dall'Italia in termini di infrastrutture viarie, ferroviarie e quant'altro isolata dal resto del paese mentre è molto ben connessa con l'ambiente diciamo asburgico bavarese e mitteleuropeo la prima ferrovia da Trieste a Vienna è del 1857 e l'altro giorno a Trieste in Pompamagna è stato festeggiato il trecentesimo anniversario della concessione dello statuto di Portofranco da parte di Carlo VI d'Asburgo al porto di Trieste che da una parte sigillava il declino di Venezia e dall'altra faceva di Trieste una città decisiva per il sistema asburgico mitteleuropeo guardate chi è stato lo sponsor di questo evento le ferrovie austriache tanto per renderci conto e il tipo di intese che vengono firmate tra le autorità portuali di Trieste e della regione Friuli Venezia Giulia non riguardano l'Italia ma riguardano le ferrovie austriache ungheresi, slovacche e così via infine da Trieste passa un oleodotto che porta il 100% del petrolio consumato in Baviera e il 60% del petrolio consumato in Baden-Württemberg mentre non porta nulla verso il nostro paese è evidente che se come pareva e vedremo se questo accadrà l'idea cinese non era solamente di farne uno sbocco commerciale ma anche di farne un data center addirittura con un progetto di una sorta di struttura subacquea sotto al molo dove i cinesi dovrebbero investire è chiaro che questo non suonava troppo favorevolmente alle orecchie americane che hanno quindi molto premuto per usare un eufemismo sul nostro governo perché questo non accadesse magari accadesse anzi il contrario che si creasse un data center americano e che comunque Trieste insieme a Capodistria si connettesse con delle tecnologie duali cioè civili e militari in una sorta di asse strategico di contenimento della pressione cinese e russa la cosa interessante è che quella che si presenta formalmente come una coppia dal punto di vista diplomatico la Cina e la Russia verso questo spazio di cui noi siamo parte che abbiamo chiamato in maniera spiccia ma credo abbastanza concreta impero europeo dell'America cioè quella zona in azzurro hanno di fatto un approccio diverso ovviamente anche per ragioni banalmente geografiche per la Russia l'importante è che la Nato non avanzi troppo verso est è già avanzata parecchio e per la Cina invece va benissimo non gli importa niente anzi più avanza è meglio è l'importante è infiltrare da dentro cioè avere nei paesi Nato cominciando dai paesi dell'est dei paesi dell'ex impero sovietico una propria influenza attraverso gli strumenti commerciali economici ma non solo e quindi possa entrare nel sistema americano in qualche modo sovvertendolo da dentro a partire da quello che i cinesi considerano il ventremolle del sistema euroatlantico e quindi anche in particolare a partire dall'Italia che viene considerata un paese abbastanza incosciente di sé per poter essere manipolato così come lo è stato a partire almeno dalla fine della seconda guerra mondiale con una certa allegria da amici e da meno amici questo vi spiega perché oggi vi sia una tensione molto forte tra il nostro governo e quello degli Stati Uniti e vi spiega anche perché da parte cinese vi è stato in questi ultimi mesi un pressing molto forte per convincerci a entrare in questo sistema intendiamoci in questo sistema ci sono una settantina di paesi non è che siamo i primi della lista alcuni dei quali sono anche membri della Nato però a differenza dell'Italia che ha negoziato direttamente in maniera anche un po' improvvisata con degli intermediari un po' improvvisati con la Cina per esempio la Polonia ha vinto sui due tavoli cioè prima ha parlato con gli americani e gli ha chiesto se loro facevano entrare i cinesi fino a un certo punto che cosa ottenevano in cambio quindi hanno ottenuto sostanzialmente più soldati più asset militari americani e più soldi cinesi se noi avessimo fatto lo stesso se cioè avessimo in qualche modo contrattato sui due fronti probabilmente non ci troveremmo nella condizione di rischiare di perdere sui due fronti cioè di perdere nei confronti dei cinesi che faranno probabilmente speriamo di no un po' di amuina oppure faranno degli investimenti su un porto che non è italiano e perdere dagli americani che è certamente una cosa del genere se la sono segnata ce la possono far pagare in vari modi alcuni anche evidenti come i giudizi dell'agenzia di rating per completare il quadro abbiamo disegnato quindi la centralità del rapporto con gli Stati Uniti e abbiamo disegnato quello che in qualche misura può essere considerato come vedete quella striscia rossa che va da Tallin giù appunto fino all'Adriatico quello che è un asse dei paesi dell'est un tempo parte dell'impero sovietico o addirittura dell'unione sovietica e che oggi sono invece la punta più antirussa russofoba e scatenata del sistema atlantico dove il nostro interesse a differenza di questi paesi io credo dovrebbe essere quello di evitare evidentemente un conflitto armato perché quello sarebbe devastante con la Russia ma anche evitare che vi sia una crisi tale da mettere in fibrillazione tutto il sistema che sta sulla nostra frontiera orientale compresi i Balcani che sono tutt'altro che pacificati anzi vi sono segni in particolare Serbia, Kosovo e quant'altro di risorgere di questioni che abbiamo sedato con dei palliativi credo che una partita molto grossa ovviamente è quella dell'Ucraina orientale la partita del Donbass che è una guerra in diretta fra Stati Uniti e Russia che sarebbe bene riuscire in qualche modo a spegnere o quantomeno a contenere ma poi una partita che probabilmente si aprirà riguarda la Bielorussia che è sostanzialmente considerata dai russi ma lo è anche in buona misura parte del proprio sistema probabilmente Putin prima di lasciare il Cremlino cosa che non accadrà fra decenni vorrà includere anche formalmente la Bielorussia in un sistema di stato russo belorusso evidentemente a condizione russa e che invece i polacchi baltici e alcuni americani pensano debba essere la nuova Ucraina cioè un altro spostamento verso est dell'asse atlantico per arrivare a ridosso della frontiera russa e quello è un un problema verso il quale credo che un paese come il nostro che sia nella condizione come la nostra debba cercare di evitare anche che si arrivi a ripetere magari in forma ancora più grave in Bielorussia quello che già abbiamo vissuto in Ucraina e poi per farla breve abbiamo disegnato quella sorta di parallelogramma Parigi Berlino Francoforte Bruxelles che sono diciamo i quattro riferimenti fondamentali del sistema dell'eurozona di cui noi siamo parte siamo parte nelle condizioni di debolezza che conosciamo cioè di un paese indebitato oltre il 130% sul PIL un paese che ha sempre l'incognita di quello che può essere la reazione dei mercati nel momento in cui mettiamo dei titoli di Stato a disposizione appunto dei mercati e che sono evidentemente decisivi per il futuro della nostra economia ma direi in generale per il futuro del nostro Stato dove l'elemento secondo me importante è considerare la diversità di interessi ormai palese tra Parigi e Berlino in particolare per l'Italia Parigi può essere un asset ammesso che non continuiamo a spararci addosso può essere un asset importante perché abbiamo una visione simile di quello che potrebbe essere un tentativo di riforma dell'eurozona in senso o meno tra virgolette tedesco o olandese cioè una politica anche fiscale più aperta e una certa redistribuzione delle responsabilità che andrebbe in contraddizione con l'approccio tedesco mentre Berlino ci può essere utile soprattutto sul fronte meridionale in Nord Africa dove l'approccio tedesco non è troppo dissimile è arrivato anche Germano ciao non è troppo dissimile da quello nostro mentre è molto dissimile da quello francese che considera tutto quello spazio sostanzialmente impero francese anche se non formalmente un impero dove si sta aprendo fra l'altro oltre alle partite già molto complesse in Libia in Tunisia la questione algerina che non è semplicemente una questione algerina ma è una questione francese nel senso che mezza Algeria sta in Francia se succede qualcosa di serio in Algeria inevitabilmente le ripercussioni sulla Francia e quindi sull'Europa sarebbero piuttosto pesanti ed evidenti concludo dicendo che questo ragionamento di cui ho dato qualche breve cenno e che naturalmente vale come provocazione intellettuale non ha nessuna pretesa particolare ma dobbiamo cominciare a riflettere sulla nostra strategia questo ragionamento evidentemente presuppone l'esistenza di un soggetto geopolitico cioè presuppone l'esistenza di uno Stato Italia cosa che non è così ovvia e così scontata sia per la debolezza storica in termini di legittimazione e di efficienza delle nostre istituzioni pubbliche sia anche per l'attuale situazione dove di fronte alle crisi alle pressioni e alle incertezze montano i particolarismi i localismi i regionalismi cioè tutti i fattori di disintegrazione dello spazio italiano che avrebbero a mio avviso per conseguenza non solo un indebolimento o forse addirittura la scomparsa del sistema Italia ma anche un indebolimento dei soggetti che lo promuovono pensando di essere più furbi degli altri cioè per dirla tutta un Lombardo Veneto che si staccasse per gradi dal nostro paese per agganciare lo spazio mitteleuropeo il presidente di Astro Lombarda Carlo Bonomi parla di questo cioè dice noi siamo mitteleuropei evidentemente sarebbe una sorta di mezzogiorno dell'Europa e non certamente un fattore trainante nel contesto europeo con l'aggravante di perdere un bel pezzo di mercato il mercato interno italiano che evidentemente ha un peso al di là di tutte le altre considerazioni geopolitiche cioè che un territorio più ristretto limitato e senza fra l'altro gran parte di quegli sbocchi mediterranei di cui abbiamo parlato non sarebbe poi così potente così come ancora se vogliamo questa volta più ridicola che è inefficiente mi pare la prospettiva delle cosiddette città-stato di cui parla per esempio il sindaco di Milano come se Milano potesse diventare Singapore o anche il sindaco di Napoli che parla di autonomia totale non so cosa voglia dire totale di Napoli e addirittura del fatto che si possa battere a Napoli una criptomoneta che sia tipica dell'ambiente partenopeo sono delle idee abbastanza strampalate che stanno prendendo in qualche modo piede nel nostro paese e che oggi sono anche al centro del dibattito politico nel momento in cui si discute dei cosiddetti regionalismi differenziati che significano non solamente per esempio possibilità di trattenere nella regione una parte delle entrate fiscali molto rilevante ma anche rideterminare l'educazione la scuola in una conversazione con il presidente della regione veneto per esempio Zaya lui dice dobbiamo concentrare l'istruzione sulla storia veneziana quindi sulla serenissima insomma una storia in venezian che sicuramente arricchirebbe la cognizione di sé dei veneziani ma avrebbe poco a che fare con il sistema in cui Venezia vive e convive da un po' di tempo ecco questi sono alcuni dei temi che abbiamo affrontato così come una tesi che abbiamo provato ad esporre è quella che non solo non abbiamo bisogno di ulteriori frammentazioni autonomie localismi e quant'altro e quindi di incertezza dei poteri e delle responsabilità ma semmai di un riaccentramento cioè in Italia ci deve essere la possibilità di capire chi è responsabile di cosa chi può fare qualcosa o non la può fare cosa che oggi mi pare abbastanza complicata e qui c'è il problema di cui immagino parlerà Germano Dottori che ha scritto un brillante articolo su questo il problema di che cosa sia Roma di come Roma malgrado sia dal 1871 capitale di questo paese sia notevolmente delegittimata agli occhi almeno di una parte del paese e di come Roma possa eventualmente ritrovare una sua effettiva centralità geopolitica e amministrativa che sta perdendo mi fermo qui ci sarà poi modo se vorrete di fare qualche breve domanda e ancora più brevi risposte passerei la palla a Peppe Provenzano che in questo numero proprio si è occupato della questione dei regionalismi in particolare del Sud una strategia per l'Italia presuppone l'Italia dice Lucio Caracciolo e l'Italia per essere Italia e avere una strategia ha bisogno dello Stato e a noi è sembrato incredibile come nelle scorse settimane nel silenzio dell'opinione pubblica stava per passare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che sanciva di fatto la fine dello Stato la fine dello Stato italiano per come l'abbiamo conosciuto non lo Stato minimo come alcuni dicono ma lo Stato proprio residuale i poteri venivano attribuiti ad alcune regioni che ne facevano richiesta nella quasi totalità e il resto diciamo avrebbe avuto un governo a geografia variabile è un po' paradossale che questo avvenga nel momento in cui in Italia in maniera così grossolana come ci diceva Caracciolo e anche a volte un po' razzistica si torna a parlare di interesse nazionale perché il primo interesse nazionale dovrebbe essere quello forse di tenere insieme questo paese di avere diritti opportunità che siano garantiti per tutti sullo stesso territorio nazionale e invece questa autonomia differenziata come qualcuno ha detto stava configurando una vera forma di secessione la secessione dei ricchi su questo magari ci torno però per capire come ci siamo arrivati oggi anche nel silenzio dell'opinione pubblica dovremmo scavare a mio avviso più a fondo non nei millenni di storia come farà forse il presidente cinese Xi Jinping come è abituato a fare ma almeno negli ultimi 20 anni con un sacco di errori negli ultimi 20 anni e negli ultimi 25 anni perché la seconda repubblica sta finendo è finita nel modo con cui si è aperta con una grande frattura territoriale soprattutto sul piano politico l'Italia non è mai stata così divisa politicamente a nord e a sud e questa divisione è stata preparata anche con la fine anche della capacità di parlare la stessa lingua a nord e al sud di questo paese le stesse forze politiche hanno parlato in lingue diverse non a caso il tema dell'autonomia divide trasversalmente gli schieramenti non è una questione di destra e di sinistra attraversa gli schieramenti in maniera diciamo trasversale perché da tempo abbiamo smesso di essere nazione di concepirci come nazione siamo arrivati a quella che Franco Cassano chiama la territorializzazione della ragione e questo è avvenuto perché noi ci siamo preoccupati della secessione minacciata ma non ci siamo accorti di questa secessione strisciante che ha attraversato il paese e che è avvenuta nei fatti diciamo la verità io adesso non sto qui a ricordare i dati che ogni anno diffondiamo sulle questioni economiche e sociali adesso per esempio si è aperto un divario su questioni che non immaginavamo prima c'è un divario demografico i sentieri demografici del paese hanno preso vie molto divergenti il sud la questione meridionale si sta risolvendo come storicamente si è cercato di risolverla per la via dell'emigrazione nei prossimi 50 anni anche meno probabilmente il sud perderà 4 milioni di abitanti queste sono le stime che facciamo noi con l'Istat eccetera e questo divario questa frattura si estende a tutti i fattori istituzionali oggi già oggi nel godimento dei diritti nascere a Canicattì o nascere a Treviso non è la stessa cosa già oggi esiste una cittadinanza diseguale nel nostro paese e se anche alla fine di questo processo dell'autonomia differenziata il guadagno di alcuni non verrebbe a scapito di altri sarebbe comunque la certificazione di questa divisione e la rinuncia dello Stato a perseguire l'unità economica e sociale che è ancora così lontana dal compimento diciamo proviamo a guardare questo paese però nel suo insieme perché se il sud è uscito da quella crisi come da una guerra e rischia di non potersi permettere il ritorno nella recessione come già sta probabilmente avvenendo ma non è che il nord se l'è passata tanto bene noi abbiamo spesso utilizzato questa metafora il sud è come la Grecia ma il nord non è più la Baviera anzi se guardiamo la classifica delle regioni europee vediamo che l'arretramento relativo il sud si trova a fondo della classifica ma l'arretramento relativo di alcune regioni del centro nord è stato molto superiore rispetto a quello del resto del paese insomma anche qui ci troviamo oggi in una condizione molto paradossale io non ho una mappa che lo descrive però immaginiamo questa situazione un po' singolare noi abbiamo la Lega che si fa nazionale e rischia paradossalmente di realizzare il suo sogno antico una linea del carroccio che scende in Italia progressivamente e nel frattempo la linea della Palma la chiamava così Leonardo Sciascia che sale che già molto oltre Roma lo stesso Lazio ormai se non avesse la capitale di cui pure conosciamo il declino sarebbe a tutti gli effetti una regione del mezzogiorno per parametri economici e sociali ma non solo prendiamo tutta la dorsale tirrenica la Liguria cioè è un progressivo declino che ha riguardato il paese tutta l'Italia si va facendo mezzogiorno e si fa facendo mezzogiorno non solo perché le mafie hanno unificato nord e sud più di quanto abbia saputo fare lo stato italiano non solo perché alcuni limiti del sistema produttivo si estendono sempre più verso nord la dimensione sempre più piccola delle imprese anche una diversificazione molto forte all'interno delle imprese tra le poche che riescono a competere nel mondo e la stragrande maggioranza che invece sopravvive con meccanismi diciamo competitivi al ribasso la debolezza della macchina pubblica che al sud è accentuata ma che è un problema che riguarda sempre più tutto il paese insomma c'è un declino del nord e del sud e forse è stato proprio il declino del nord in questi anni a recuperare quell'antico alibi del mezzogiorno palla al piede oppure il luogo comune a mio avviso di ogni vizio e camorra e oggi dopo alla luce dei rischi che ci sono di recessione al sud e al nord il riflesso condizionato è quello un po' di liberarsi così si dice della zavorra meridionale per far sì che la locomotiva nelle regioni del nord possa correre libera nelle praterie del mondo la verità è quello che questo movimento in realtà e questo riflesso condizionato non nasce oggi è la storia degli ultimi decenni in fondo se guardiamo un po' anche qui alla storia recente d'Italia adesso io voglio un po' banalizzo per essere provocatorio ma dopo Maastricht dopo il 92 93 quando cambiano le leve di governo dell'economia e anche del paese si è aperta una guerra per l'accaparramento di risorse che si facevano sempre minori nel nostro paese e come tutte le guerre si è nutrita di una propaganda una propaganda che si è imposta anche diffondendo luoghi comuni falsi per esempio uno dei luoghi comuni è che il sud sarebbe inondato di risorse pubbliche se ne spenderebbero al sud molto più che nella media del resto del paese e che ogni soldo pubblico destinato al mezzogiorno in realtà finisce negli sprechi o nel malaffare così non è questo si è potuto diciamo realizzare anche perché si è coltivata l'illusione che un'economia di 60 milioni di abitanti nella globalizzazione potesse vivere e sopravvivere solo perché trainata da alcune gazzelle che riuscivano così sono venivano chiamate a vincere nella sfida della competizione globale e così non è stato e non si è riusciti a imporre un disegno alternativo una strategia alternativa per tutto il paese per il sud e per il nord proprio perché lo stato via via era del tutto privo di credibilità e si era via via disgregato e per la minorità politica e culturale di chi ha gestito quel passaggio di fronte all'alternativa tra riformarlo e ricostruirlo o liquidarlo si è scelto di liquidarlo e questa idea è stata perseguita anche è stata preparata da miti che si sono imposti sul piano economico prima che sul piano politico che anche questi si sono rivelati fallimentari lo sviluppo indogeno lo sviluppo autopropulsivo l'idea che nelle mani di un sindaco o di un governatore fossero i destini economici e politici di interi territori affidarsi alle primavere locali questo è avvenuto al nord e al sud ma non è riuscito a sostituire la competizione tra individui la competizione tra territori questo purtroppo non ha lasciato nulla al nostro paese abbiamo coltivato il mito del piccolo e bello i sapori un po' naif delle sagre locali ma non abbiamo più avuto un disegno di sviluppo e questo processo di decentramento che è iniziato in quella stagione ha progressivamente contribuito forse è la cosa che ha contribuito di più a minare la capacità e a minare le basi di uno Stato che potesse avere una sua politica ha contribuito dal smantellamento dello Stato diciamo la verità io penso che la madre degli errori sia stata la riforma del titolo quinto da questo punto di vista per esempio regionalizzare materie per cui noi avremmo bisogno di una strategia europea invece c'è mancata quella nazionale l'energia la politica industriale e aprire per esempio a questa disposizione che offre la possibilità di chiedere ulteriori competenze praticamente su tutto compreso lo ricordava Caracciolo i grandi pilastri della cittadinanza nazionale la scuola la sanità l'assistenza le politiche del lavoro persino un pezzo dell'organizzazione della giustizia ecco Lombardia e Veneto l'Emilia Romagna è un po' diverso chiedono competenze praticamente su tutto questo la piena regionalizzazione del sistema sanitario nazionale che di sanità di nazionale ormai non ha quasi più nulla lo chiedono in una forma molto discutibile anche un po' che fa riflettere cioè la forma sarebbe quella dell'intesa tra lo Stato e la Regione che non si può discutere che nessun altro può discutere il tema è quello delle risorse sostanzialmente trattenere le risorse io ho pochissimo tempo e non posso entrare nel merito sulla contabilità che non tiene conto per esempio di quanto il Sud trasferisce al Centro Nord ma è una contabilità misera perché Nord e Sud sono ancora oggi che se ne dica profondamente integrati e interdipendenti il Sud attiva il 14% del PIL del Centro Nord e in questa contabilità misera non bisogna entrare ma io penso comunque che diciamo la verità se si venissero esaudite le richieste di Veneto e Lombardia cioè di trattenere le risorse dell'ultimo territorio non è un problema per il Sud salterebbe il bilancio dello Stato quindi da questo punto di vista questa autonomia differenziata probabilmente non arriverà da nessuna parte arriverà però e avrà la conseguenza di portarci ulteriormente lontani da quello di cui avremmo bisogno e che ricordava Lucio alla fine del suo intervento la ricostruzione di uno Stato e la mancanza dello Stato lo vediamo nello specchio del declino della sua capitale lo vediamo per esempio per le fragilità con cui affrontiamo queste scelte qui perché se oggi noi avessimo avuto un investimento nostro nei nostri porti nelle nostre infrastrutture senza non avremmo avuto bisogno di non so firmare un memorandum per fare degli accordi con la Cina la Cina già c'era era per esempio a Taranto e l'abbiamo lasciata andare al Pireo proprio perché non avevamo una strategia non avevamo una strategia sui porti meridionali cosa avrebbe significato per quella per quella carta lì probabilmente un vantaggio enorme un vantaggio per l'Italia da far pesare in Europa ecco nella visione del Sud e nel ribaltamento delle convenienze anche della strategia geopolitica forse uno Stato ricostruito e degno di questo nome potrebbe trovare quella strategia per l'Italia che ancora sembra non esserci Buonasera a tutti 15 minuti sono veramente pochi per discutere tutti gli argomenti che sono stati messi sul tavolo comunque cercherò di raccogliere qualcuna delle suggestioni che sono state poste qui davanti alla vostra attenzione mentre ascoltavo l'intervento di chi mi ha preceduto è sorta dentro di me una domanda spontanea ma chi ha perso l'Italia ma tutto quello che è avvenuto sotto i nostri occhi davvero non ci ha coinvolto siamo stati soltanto i testimoni passivi di un processo che è stato pilotato da un gruppo di elite o un gruppo di poteri forti un gruppo di personalità politico del mondo dell'economia sì e no perché abbiamo avuto due momenti almeno due momenti almeno uno nel 2006 e uno nel 2016 in cui noi italiani siamo stati chiamati a esprimere il nostro voto su due progetti di riforma costituzionale che avevano in comune un aspetto fondamentale cioè quello di trasferire dei poteri dalle periferie verso il centro e dal potere legislativo verso il potere esecutivo ciò che costituisce normalmente il primo passo per poter procedere alla creazione di centri deputati all'assunzione di decisioni strategiche cosa che il nostro paese non ha per poter avere un centro di decisione strategica devi avere il potere di implementare una strategia se tu questo potere di implementare una strategia non ce l'hai e sei costretto a vivacchiare sui numeri stretti di maggioranze che vengono create sul momento per rispondere a dei bisogni politici immediati tu avanti non vai e il risultato qual è stato? il risultato è stato sorprendentemente uguale i no alla riforma hanno vinto per 60 a 40 sia nei confronti della riforma elaborata dal centro-destra sia nei confronti della proposta di riforma costituzionale elaborata dal centro-sinistra ora tutto questo non è avvenuto per caso ed è avvenuto in realtà secondo me per due circostanze la prima al momento in cui la gente deve esprimersi rispetto all'idea di delegare maggior potere all'esecutivo la gente che teme che a vincere siano i propri avversari supera strutturalmente il numero delle persone che credono invece di poter conquistare il potere come se in una logica democratica perdere oggi non ti consentisse di studiare il modo di vincere domani e quindi di governare quindi in qualche modo la scelta di avere un governo debole in parte dipende anche da noi e dipende fondamentalmente da un tipo di cultura che ha il nostro paese un tipo di cultura che secondo me rappresenta il nostro vincolo interno noi abbiamo un vincolo esterno che è rappresentato ad esempio da tutto il complesso normativo delle regolamentazioni europee o anche sul piano della sicurezza gli adempimenti che noi dobbiamo rispettare e dobbiamo onorare in quanto membri dell'Alleanza Atlantica però in realtà abbiamo anche un vincolo interno che è rappresentato dal tipo di cultura politica che abbiamo una cultura politica che ancora non può definirsi compiutamente democratica nella mentalità non perché non rispettiamo l'avversario non perché non c'è la dialettica interna ma perché tendiamo a evitare che chi vince le elezioni possa avere il pieno potere e quindi anche la piena responsabilità per l'esecuzione di un programma che propone agli elettori dopo un tentativo di rafforzare la capacità di interpretare la volontà popolare che è stato fatto dopo mani pulite stiamo facendo marcia indietro la legge elettorale proporzionale la legge elettorale proporzionale con cui abbiamo votato l'anno scorso è stata concepita per impedire di vincere ed è andata bene a un sacco di gente l'altra ragione che ha fatto naufragare il referendum e soprattutto l'ultimo è che il nostro paese è una somma di municipalità di provincialità di regionalità o regionalismi come vi pare ciascuna delle quali vuole conservare un potere di interdizione e contrattazione rispetto allo stato centrale allora se la vita politica della nostra nazione è ridotta a pura amministrazione e negoziazione continua è chiaro che il nostro paese non può svolgere un ruolo di protagonista sulla scena internazionale e finisce da soggetto geopolitico a retrocedere alla condizione di oggetto geopolitico che è quello che stiamo vedendo ai giorni nostri non ce ne stiamo accorgendo ma in realtà come il direttore Caraccio lo ha evidenziato in uno splendido editoriale pubblicato qualche giorno fa l'Italia ha finito senza rendersene conto in mezzo al ring in cui si stanno scontrando i due pesi massimi della politica mondiale la Cina e gli Stati Uniti per entrambi siamo importanti siamo strategici eppure tendiamo a immaginare che gli accordi che vengono stretti e che saranno firmati sciaguratamente tra pochi giorni a Roma abbiano una valenza puramente commerciale mentre invece individuano una nostra adesione a un programma che è entrato a far parte addirittura dello statuto del partito comunista cinese e che contiene quindi implicitamente come dire la promessa di una nostra condivisione di un progetto che è considerato dagli Stati Uniti eversivo rispetto all'attuale ordine internazionale voi pensate che questo gli Stati Uniti lo possano lasciar fare con grande tranquillità io francamente penso di no dicono che non sia molto sovranista ricordare al pubblico che noi dobbiamo tener conto delle realtà dei rapporti di forza della politica internazionale io credo che invece chi si occupa di politica anche a livello di concorso alla formazione dell'opinione pubblica debba avere sempre in mente la preoccupazione di evitare guai maggiori al paese di cui si fa parte se io mi rendo conto che una politica o una scelta che sto facendo rappresentano un problema per la prima potenza del pianeta e sono al corrente che il mio paese ha delle vulnerabilità straordinarie che possono essere sfruttate da chi non è contento delle politiche che facciamo per rovesciare il nostro governo o anche semplicemente per creare e diffondere dello scontento che delegittima una classe politica beh io mi preoccupo e in qualche modo interpreto il mio ruolo di persona che consiglia i politici nella direzione di raccomandare prudenza invece a me pare che questa prudenza sia venuta meno che non si capisca esattamente quello che sta accadendo e che purtroppo si continui a rappresentare tutto quello che la realtà internazionale offre al nostro paese in termini di opportunità ma anche in termini di rischi e minacce semplicemente sulla base di un tornaconto economico commerciale e finanziario peraltro estremamente incerto perché sì e lo abbiamo sentito a Genova Lucio no? Sottosegretario Geraci cosa ci ha detto? Il massimo che potremo avere di investimenti dalla Repubblica Popolare Cinese è un miliardo due di euro avete idea in una giornata di speculazione sui mercati finanziari quanti ne possono essere bruciati? Ed è un gioco da ragazzi quando dal National Security Council americano arriva qualcuno che ti twitta scrivendo la firma che comporterà l'ingresso dell'Italia nelle vie cinesi della seta sarà all'origine di un danno reputazionale globale per il nostro paese che cosa ci viene detto? Ci viene detto che la nostra reputazione sui mercati verosimilmente subirà qualche colpo come possa essere fatto? ci sono un'infinità di modi uno lo abbiamo visto immediatamente l'inviato della stampa negli Stati Uniti è stato invitato al Dipartimento di Stato e gli è stato comunicato che l'Italia non sta pagando neanche gli F-35 che compra 390 milioni di euro e ci è andata bene perché poteva essere un tweet di Trump cari amici cinesi auguri vi mettete soci in affari degli italiani che a me non pagano neanche gli aerei da guerra che gli vengono e sono il Presidente degli Stati Uniti vi immaginate l'impatto sui mercati allora questa è veramente una questione cruciale l'economicismo fa parte della nostra cultura deriva dal fatto che noi tradizionalmente siamo mercanti la storia delle nostre repubbliche marinare è una storia che parla di commerci di soldi di ricerca di opportunità di scambio ma molto ha influito anche come dire il condizionamento culturale marxista ricondurre il potere all'economia e invece la politica è qualche cosa che spesso si alimenta anche di simboli per cui ad esempio probabilmente tra tutti i memorandum understanding che verranno firmati a partire da sabato forse il più importante è quello di cornice è quello che all'articolo 1 stabilisce la condivisione italiana delle finalità del progetto delle vie della seta ovvio che tutto questo rappresenti delle fonti di preoccupazione e forse sarebbe bene che il nostro paese maturasse una capacità almeno di preesame delle scelte che vengono sottoposte all'attenzione dei politici di più alta responsabilità sto vedendo queste cose troppo da vicino i dossier vengono studiati pochissimo anche i rapporti che prepara la nostra intelligence che lavora benissimo meravigliosamente sono spesso messi nei cassetti a volte determina stupore la richiesta di nuovi rapporti non sono abituati ma se il politico non si informa perché non ha il tempo di informarsi d'altra parte deve preoccuparsi di correre in continuazione nelle camere per tamponare la crisi del giorno il tempo non lo troverà mai e di questo dobbiamo essere consapevoli è l'ultima considerazione di questo mio intervento dedicato al problema delle strategie per per l'Italia noi abbiamo orrore della concentrazione del potere orrore della concentrazione del potere interno il problema è che siamo entrati in un'era in cui se non concentriamo un po' il potere interno in modo significativo alla fine la capacità di ridiriggere e orientare i nostri destini la regaleremo alle concentrazioni di potere esterno e ne vediamo sotto gli occhi di veramente straordinarie all'opera grazie grazie